e gli attentati. Arriva il secondo bando di gara per l'affidamento in concessione fino a 50 anni di 20 strutture di proprietà dello Stato, fari, torri ed edifici costieri di pregio storico e culturale disposti su tutta la penisola e a settembre ci sarà la gara. Su questo, Celia Ghimeraes. Dieci fari da Ponza a Capo Rizzuto, da Punta Polverai all'isola d'Elba a Capo Milazzo ma anche all'isola di Spignona a Venezia o alle Formiche a largo di Grosseto. Partirà a settembre il secondo bando di gara per l'affitto di beni di proprietà dello Stato che saranno recuperati e trasformati in strutture ricettive, hotel o resort di lusso. In particolare il primo bando riguardava interventi al sud, adesso andiamo anche al nord, in Veneto e in Emilia Romagna in particolare, estendendo quindi a otto regioni la valorizzazione di questi beni. Uno scrigno di gioielli che comprende dieci fari in gestione a cui si aggiungono altri dieci beni, trattori ed edifici costieri disposti da nord a sud lungo la penisola di varia tipologia in gestione all'Agenzia del Demanio. Strutture di pregio che saranno date in affitto fino a un periodo massimo di 50 anni. L'incasso previsto per lo Stato è di circa 340 milioni di euro l'anno e di oltre 7 miliardi di euro per tutto il periodo di concessione. Il Ministero dei Beni Culturali e Demanio lavorano insieme anche per promuovere altre formule di turismo sostenibile. Per farlo, 1.400 case cantoniere potrebbero diventare luoghi di accoglienza e ristoro, per esempio per i camminatori sulla via francigena. Grazie.